La Paganese è una delle protagoniste indiscusse del mercato di Milano. Tra poche ore potrebbe essere il turno degli ingaggi di Fofana, attaccante Agnelli, centrocampista, ma anche di altri due calciatori, un terzino sinistro e forse un portiere che potrebbe non essere Ragni, visto che il Pescara pare intenzionato a tenerlo almeno per ora. Stamattina invece ha firmato ufficialmente con la Paganese Evan Soligo, il centrocampista che dovrebbe cambiare pelle al reparto centrale della squadra di Mr. Grassadonia, consentendole di regalarle qualità in mediana, ma soprattutto esperienza. Classe 1979, Soligo pareva non intenzionato a lasciare il Veneto, anzi aveva richieste pure dal Venezia, ne ho promosso in C, ma la Paganese è stata brava ad andare in pressing con il suo presidente Raffaele Trapani e lavorando ai fianchi il procuratore di Soligo con il direttore generale Cocchino Deboli, vero e proprio Segugio, soprattutto nella fase iniziale della trattativa. Grassadonia è stato dunque accontentato, il colpo da 90 ha messo a segno. Soligo avrà la maglia azzurra con la stella al petto già da domani mattina, quando sarà presentato ufficialmente nella sede di Via Albanese. Ma ci sarà soltanto Soligo domani mattina a Pagani? A quanto pare no. Gori, giovane del Bari, potrebbe essere una delle altre sorprese, insieme a Cristian Agnelli, l'anno scorso alla SPAL, centrocampista d'esperienza, che andrebbe a comporre proprio con Soligo una coppia importante in seconda linea. Fofanadel-Siracusa si aspettava una maggiore pressione dal Lanciano, ne ho promosso in Serie B, cosa non avvenuta. Quindi l'ambiziosa Paganese potrebbe essere più di un'alternativa per un giocatore bravo, anche se di bravi ce ne sono tanti altri. Quindi Fofanà, entro le prossime ore, dovrà dare una risposta a Deboli. Subito, perché il direttore generale, Trapani e Grassadonia, vogliono una rosa quasi al completo per il ritiro di Acquasantaterme. Per domani, al massimo domenica pomeriggio, quando si partirà per le Marche, la Paganese potrebbe dunque regalare ai suoi tifosi ulteriori novità.